Ciao! Devo dire che era un bel pezzo, non faceva un video lungo, argomentato, che non fosse una ricetta sul Casa Superstar, quindi ho deciso di fare questo video e mostrarti qualche piccolo acquisto, qualche piccolo acquisto insomma, che ho fatto durante lo scorso weekend, sono stata a Ragusa con mio marito, è della provincia di Ragusa, e al ritorno non sto qua a dirti il giro che abbiamo fatto, siamo passati all'Ikea, quindi comincio con le cose, e poi ti faccio vedere le cose da mangiare, ciccherie! Ciao, sono Annalisa, ho un problema con i tovaglioli, io spesso organizzo, no spesso, praticamente sempre, delle cene con amici, no? Mi piace cambiare i tovaglioli, io ho una piccola fissa con i tovaglioli colorati, nel senso che certe volte veramente cambio solo i tovaglioli, a me mi sembra che mi cambia la tavola, quindi compro spesso i tovaglioli colorati, ecco, quindi anche su Instagram certe volte si vedono tipo fotografie con i tovaglioli colorati, ma perché a me piacciono i tovaglioli così a fantasia, li metto a tavola e mi piacciono, quindi sia per le cene che per i pomeriggi con le amiche, quando organizzo qualche merenda, via scorrendo, utilizzo questi, ho preso questi qua, allora sono 30, si chiamano Sommar, 2016, e sono tipo, sfondo bianco, è questa fantasia celeste, se avessi trovato pure i piatti li avrei presi, però non c'erano, però va bene, andavano bene solo questi qua, ti devo dire che il prezzo non era male, perché sono costati 1,80 euro e sono 30, e insomma li metto qua, poi le tazze, io già ne ho due, col segno di poi mi sono detta, ma perché non ne ho comprate quattro, perché costano 79 centesimi, ho preso queste qui, non c'è scritto il nome, sono delle tazze trasparenti, per il principio che qui sopra, quando certe volte tipo viene qualcuno a prendere il tè il pomeriggio, se sono libera, mi piace molto servire il tè nelle, a me stessa piace prendere il tè, non so perché, nelle tazze trasparenti, quindi due avevo e due ho, siamo a quattro, cretina, non ho capito perché non ho preso quattro direttamente, così facevo il servizio da sei, no? Va bene, comunque, queste le tazze che mi piacciono da impazzire, 79 centesimi, bellissimo. Nel canale di Neiza Superstar, di tanto in tanto, da un po' di tempo, facevi io in una nuova postazione, tra virgolette, che in realtà è stato molto casuale che mi mettessi lì, ho visto che la luce nei giorni, nei momenti in cui io sono libera, mi sembra buona, una luce naturale, quindi spesso mi metto lì, e non sto qui a spiegarti tutta la cosa, mi servivano due federe, siccome ho avuto difficoltà a trovare solo due federe, dovevo comprare l'intero kit di lenzuola e lascio stare, all'iché ho trovato queste federe, guarda, fantasia portami via, guarda che colore, è che a me piacciono questi colori, non colori, proprio colori, proprio un po' coscialbi, ma io li trovo fantastici, comunque, però si chiamano Dvala, Dvala, anyway, due federe, 4 euro e 50, 4 euro e 90, una delle due, se ti interessa ci sono di altri colori anche molto intensi, però a me piacciono di più così. Da quando ho provato gli ziploc americani è stata la fine, allora, se vai negli Stati Uniti, e vai in un supermercato negli Stati Uniti, e dici, ok, devo comprare i sacchetti con la zip, dici, e quale compro? Ce ne sono di tutti i tipi, forme, misura, grammatura, spessore, è una cosa incredibile. Ecco, io negli Stati Uniti, sotto questo punto di vista, potrei avere qualche problema, per fortuna Ikea ne propone soltanto tre confezioni, tre tipi. Allora, ho preso questi qua, uno perché ero in offerta, due perché mi sono resa conto che questa misura è la misura che utilizzo di più, che è quella intermedia, i stud, che sono da un litro e mezzo e da un litro e mezzo, li utilizzo per gli alimenti, li utilizzo per i sorgelati, li utilizzo per quando esco e porto una merenda con me, li utilizzo per mettere degli oggetti quando non voglio che si disperdano in borsa e ho bisogno di quelle cose, insomma, sono i sacchetti molti uso, secondo me sono molti uso, non sono soltanto per gli alimenti, veramente eccezionali, mi piacciono, costavano sui tre euro. Tempo fa ero un filino infissa con le candele alla vaniglia di Ikea, solo che a lungo andare io non ne posso sentire più l'odore, tanto che io stavo tirando dritto, mio marito mi ha chiamato e mi ha detto, senti questa, crema, eh sì, crema, è casa superstar, no? Anna Elisa superstar, sì, sì, sì. Allora, candela, sinlig, al cocco e menta, la scelta, mio marito, cocco, molto gradevole, sa di estate, ecco, forse perché uno fa l'associazione mentale, sa proprio di estate, gli devo dire, è pure bello il colore, comunque staremo a vedere quando si accende che profumo fa. Ho finito con le cose, passiamo alle cose da mangiare. Abbiamo pranzato lì, ma in scelta fu peggiore, secondo me, proprio in my opinion noi ce lo dovevamo risparmiare, perché abbiamo fatto una fila infinica, abbiamo perso una quantità di tempo incredibile, però ho mangiato del salmone, perché a me piace molto il salmone all'Ikea, ed era accompagnato con una salsetta, ti ho detto che tipo, benissimo, se scendendo alla gastronomia c'è, la compro, e l'abbiamo presa, ed è mustard and dill sauce, dill è aneto, ho preso questa salsa qui, e ragazzi, che quant'è buona, io non ho volutamente letto gli ingredienti, perché se no non la compravo, è buonissima, con il salmone e la morte sua, ma sono veramente curiosa di provarla pure con altre preparazioni del salmone, non soltanto il salmone al fumicato, il salmone al vapore, ma fatta al forno, fantastica. Mio marito, che ha 40 anni, ma in realtà se ne sente 15, ha preso questa, che è la mostarda dolce di Ikea, perché a lui piace da impazzire, ma proprio... A lui piace la mostarda di Ikea, c'è niente di male, però mi piace tanto, e quindi ha preso sto bottiglione di mostarda Ikea. A me piace quella dei barattoni, quella astra, questa invece è dolcissima. Io non ci posso fare niente, quando vedo il 3x2 impazzisco, ho preso tre confezioni di queste, allora... è complicato, ma ci proverò. Knacne... Knackebrod Flare Corn, ecco, Multigrain Criss Bread, mi andava meglio quello, ho preso questi qua, e poi... Knackebrod Rug, Rice Criss Bread, no, Rye Criss Bread, allora, ne ho presi due bianchi, e uno nero, c'è il 3x2, io ho solo e sempre mangiato questi qua, approviamo anche questi bianchi, ok, preparati, sono stata a Modica, e che cosa vuol dire Modica? Cioccolato a rompere, come se non ci fossero domani, allora, una tavoletta l'ho già data ai miei genitori, che l'avevo presa per loro, e l'ho presa all'arancia, e quindi una tavoletta all'arancia è andato, ti sto per mostrare questo, che ha il peperoncino, cioccolato al peperoncino, due, perché le confezioni che vendevano erano, o a due, o a sei, o a nove, ma siccome abbiamo preso tante cose, ne abbiamo preso due, si presenta in questo modo, la mia passione, cioccolato al 70% di Modica, oh mio Dio, tutti questi prodotti che ho presi alla cioccolateria Buonaiuto, il top ragazzi, cioè, se tu pensi di aver mangiato cioccolato di Modica, poi vai a Modica, vai da Buonaiuto e dici, io non ho mai mangiato cioccolato di Modica, top, io ho preso questa qua per me con il cioccolato al 70%, questa tavoletta di cioccolato ha vinto un premio europeo, nel settore della cioccolateria, l'ho assaggiata e l'ho detto, certo che avete vinto un premio, è strepitosa, è cioccolato alla maggiorana, ragazzi, non si toglie di bocca, tanto è buono, ma poi fa un profumo, cioccolato alla madre, mamma mia, spettacolare, io adoro cioccolato e caffè, non c'erano tavolette di cioccolato al caffè, ma c'erano i chicchi di caffè, ricoperti di cioccolato, che forse è pure meglio, e abbiamo preso questa confezione così piena di chicchi, io adoro queste cose qua, proprio mi fanno impazzire, il cioccolato di Modica al caffè, guarda che pezzo forte me lo sto tenendo alla fine, allora, strepitoso, cioccolato di Modica alla vaniglia, è buonissimo, troppo buono, e a me, con l'unghio, cioccolato cannella, non ha mai fatto impazzire, però la signora diceva, il cioccolato alla cannella, che prepariamo noi, è amato da chi non tollera la cannella, non tollera neanche il olore, io mi sono impugliosita, allora a me vanno tanti assaggiati in là, quindi ho mangiato il cioccolato per un'ora, l'ho assaggiato, e ti devo dire che la cannella si sente alla fine con un leggerissimo retrogusto, ma talmente tanto gradevole, da rendere questo cioccolato speciale, e quindi mi ho preso una barretta, veramente incredibile, e anche all'odore, si sente prima il cioccolato e poi arriva la cannella, guarda io non lo so come lavorano, cioè non so come si prepara, però è qualcosa, e tutto questo cioccolato è fatto a mano, è fatto artigianalmente, lo vedi preparare perché loro lavorano dietro il bancone, si vede come stanno lavorando, qualcosa di splendido, cioccolato alla cannella, cioè non sa di cannella, ma sa di cannella, non so se mi sono schierata, ok, la chiccheria, Maris, allora, questo è un cioccolatino, gli abbiamo preso una confezione da due, poi c'era una confezione leggermente più, da quattro, uno da due o da quattro, questo l'ho preso anche i miei genitori, allora, fondo di cioccolato bianco, con alganori, bottarga di tonno, e cioccolato fondente, io ancora non l'ho assaggiato, ti farò sapere com'è, se non posso andare su superstar, questa è proprio una chiccheria, proprio il cioccolato con bottarga, io credo veramente, guarda, questa è proprio una chiccheria, proprio, né più, né meno, allora, presso questa cioccolateria, che è la cioccolateria più antica della Sicilia, ci sono diverse cose, molto particolari, quella che a me è colpito di più, è la birra fatta con fave di cacao, poi ci sono altre cose, che secondo me sono un pochettino più facili da reperire, però fatte con il cioccolato di Monica no, per esempio il liquore, che ho assaggiato, e io non sono amante degli alcolici, però mi sono bagnata le labbra, e mi ha fatto, preparati per cioccolata, ecco, magari, queste cose secondo me sono un pochettino più facili da reperire, la chiccheria, è questa che ti ho mostrato, il cioccolato alla maggiorana, e poi, parlando con le signore, stanno preparando le creme spalmabili, quindi questa è, sarà la novità, io spero di quest'anno, perché, guarda, era la fine del mondo, c'erano dei tipi, quelli con la tipica granella di zucchero, del cioccolato di Monica, e quella senza granella, quella con la granella, era strepitosa, io spero, che la vendono al più presto, e questi erano i miei acquisti, della provincia di Ragusa e di Catania, quindi di Monica e di Catania, presto, su questo canale, farò delle video ricette, di alcuni piatti che ho mangiato, sia a Ragusa che a Monica, e che ci hanno fatto impazzire, ma io credo proprio di essere in grado di rifarli, anche perché me lo sono fatta spiegare, come sono, quindi... Spero di averti temuto compagnia, ciao, e ci vediamo in settimana, con una nuova video ricetta. Grazie a tutti i nostri spettatori, 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 grazie a tutti i nostri spettatori,